musicista ciao 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 come ti chiami mi chiamo davide battista e quanti anni hai ho 14 anni sei un grande piena pubertà vorremmo sapere se sei qui con qualcuno si sono qua con i miei genitori e con mia sorella giustamente sono loro che ti hanno concepito giusto perfetto per essere scuri coincide allora da dove vieni vengo da milito di napoli e frequento il liceo linguistico faccio il secondo anno papà è un insegnante di musica e la musica è sempre stata di casa e quindi la mia passione è venuta anche grazie a questo a quattro anni ero molto deciso e ho chiesto a mio padre di comprarmi una tromba appena ebbi la tromba provai a soffiare un po dentro volevo subito imparare un qualche vicino un po abbiamo avuto qualche piccolo litigio però alla fine sono tranquillamente oggi molto spesso io mia sorella e mio padre suoniamo insieme troviamo un pezzo che ci piace che possiamo suonare tutti e lo suoniamo ci divertiamo mamma fa il video siccome guardo molto la trasmissione tutti gli anni per me è diciamo una cosa nuova vederli dal vivo piuttosto che vederli dallo schermo della televisione spero tanto come posso dire spero tanto che tutto vada bene sono molto emozionato cosa sei venuto a fare qui a italia's got talent sono venuto qui perché amo il jazz ma non solo infatti oggi porto un brano di madame molto conosciuto che è voce voce sì quello che ha presentato al festival sì dai faccio ascoltare ok grazie 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 bravo 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 eh siamo le volte in base grande 14 anni si bravissimo bravissimo davide hai 14 anni hai già una fortissima passione sei già un virtuoso sei già tantissime cose quindi già sei pronto per fare questo lavoro secondo me grazie bravo bravo è così pronto che mi piace molto io vado come I think I'm able to carry it on It's been a long, a long time coming But I know It's been a long time coming Vai male a te compagno Brava, brava Brava male, fatto bene Then I go to my brother Ciao, bravo, molto bravo Mi sei piaciuto molto Grazie mille Grazie, Samuel, io mi auguro che ti diventi un grande musicista Te lo meriti sotto Grazie mille Et voilà, mi produco io Facciamo i complimenti a Davide Che è ufficialmente in finale Grazie mille E facciamo un applauso per a Mara Maiotti Che ci ha messo la mano Brava Mara Brava, bravo, bravo Poi 14 anni Bravo Grazie Grazie, bravo Bravo Grazie Grazie Io voglio farti un complimento oltre a tutti gli altri Perché insomma hai un bellissimo suono, hai personalità Ma poi tu hai fatto una scelta che in quest'epoca sembra quasi assurda Cioè quella di suonare uno strumento difficile Questa è l'epoca delle scelte comode Si cerca di accompagnarsi sempre con delle basi pronte Invece tu hai fatto questa scelta assurda Suonare la tromba Che è difficilissima Ve lo dico Bravo Grazie Ed è per quello che ti ho dato il golden Perché è molto faticoso suonare la tromba E tu sei molto bravo Hai molta soltezza Mi sei piaciuto molto Veramente molto Bravo Davide Bravo Davide Allora Ci vediamo in finale Ci vediamo in finale Certo Grazie mille Torna da Chi ti ha concepito Ciao Bravo Davide Ciao 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 Grazie a tutti